Un saluto a tutti da Barcellona, a Spagna. Siamo in collegamento dal circuito di Catalunia dove i tifosi sugli spalti sono in trepidante attesa di vedere i piloti scendere in pista. Tra pochi istanti ci sposteremo sul rettilino principale per assistere alla partenza della gara Moto E. Spostiamoci subito sulla griglia di partenza. Manca pochissimo all'inizio della gara e la tensione è alle stelle. È una bella giornata anche se le temperature sono particolarmente alte. I piloti avranno a che fare con un consumo gomme piuttosto elevato e in molti si sono visti costretti a scegliere una mescola dura sia all'anteriore che al posteriore. Grazie. 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 Andiamo a vedere insieme la classifica finale della gara. I piloti si stanno godendo un meritato giro d'onore e tra poco ci collegheremo con loro dal Parc Fermé per le consuede interviste del topo gara. Grazie a tutti. Grazie a tutti.